il fondo per l'ambiente italiano apre le porte di villa stecchini siamo a romano de zelino la dimora storica sarà visitabile grazie alle giornate fai di primavera apriamo villa stecchini e ne siamo felicissimi e ringraziamo anche la famiglia per la grande ospitalità che ci hanno dato ma la apriamo in una forma molto diversa e la definiamo una casa proprio siamo nella casa degli stecchini e questa ricerca l'abbiamo intitolata come ospiti non come semplici visitatori perché entriamo nel loro vissuto nelle loro camere nei loro salotti nei saloni di rappresentanza vedremo dei quadri inediti addirittura un quadro di gemma donati la moglie di dante lighieri unico al mondo insomma sarà una scoperta veramente come dire che non vi aspettate ecco sempre noi riusciamo dare cose diverse ma questa volta sono proprio orgogliosa perché c'è un qualcosa in più un qualcosa di suo di personale che riusciamo a far conoscere alla gente quando si potrà venire il sabato pomeriggio e la domenica tutto il giorno e vorrei dire tanti visitatori non spaventatevi se vedete la coda perché entrerete tutti magari con un po di pazienza ma sicuramente tutti potranno vedere questa bellissima casa degli stecchini grazie a tutti